Sì, giocare... No, vai avanti, facciamo il 3D. Se ti manca un pilone... T'è a posto, Gubbio? Sì, sì. T'è a posto? Sì. Un po' di caldo, eh? Un po'... Parecchio, troppo. Un po' di caldo. Sì, hai scenduto benissimo. grazie a tutti è il trans è il trans di rosa ragazzi di qua dobbiamo andare no dai si è al pd gruppo di qua dobbiamo andare fai una foto oh usciate eh eh non 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 un po di video con paolo e è è un popolo è un popolo Grazie.